da approfondire perché insomma bisogna studiare e bisogna approfondire per evitare di dire poi cavolati agli italiani bisogna studiare per esempio quello che ci racconta il census che stima un aumento dei consumi pari al 15% per effetto di questo degli 80 euro che verranno restituiti a 10 milioni di italiani non è una cifra da poco Grazie